Ma sei impazzito? Ma tirarmi conto di tutto, sei stato maleducato! Guarda qua, ragazza dell'est, sposa pensionato e poi lo uccide con il suo naso. Che mi dici adesso? Questo ti dobbiamo. Sei più creativo va bene perché lo sapete. Ma razzista non è vero. Sei tu che sei ingegno. Tu compreresti una telecamera a scatola chiusa, fuori da un'autogridder a Sarello Reggio Cavabria. Non da uno con te. Non te lo. Ma che non c'hai? Davide, stai bene? Ma adesso? Ti l'ho rispettatola, dai. Ma che diavolo è successo? Non lo so, stavo mettendo questo napolano. E sai che non ho staccato il puntatore? Ma pure tu, però. Hai preso una scaricaletta che è fantastico. Non è fantastico. Poteva rimanerci secco che è una roba di salvavita. Sì, ma non è fantastico per me. È fantastico per me. Grazie. Gabbis, sei veramente un grande d'arte. Adesso lavora tanto un po', eh? Mi raccomando perché dipende tutto da... Sì. Per un'acqua volontaria. Vai. Sei sicuro che è una buona idea. Ti ho mai deluso? Sempre, comunque e ogni altro. Bevi e non presenti. Ah, gotica. Ma queste sono due? Eh. Ma da quando l'hai sviluppato o da quando l'hai comprato? Da sempre. E se mi aiuti a lavorare in chi vuole? Te lo farò vedere. Mi piacciono le ragazze determinate. Basta. Che grande. Laura, si merita di meglio. Sì, sì, io le ragazze. Sì, sì, io le ragazze. Da, da rungo così. Sì. 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 Sì.